Si torna subito in campo in Serie D per l'anticipo del giovedì. La Fidelis sarà attesa dalla sfida casalinga contro la Versa. Al Degli Olivi andrà in scena la settima giornata di ritorno, un match che i biancazzurri affrontano dopo il pari di Pozzuoli arrivato a tempo scaduto. È poco tempo dalla gara, anche se poi ripartiamo da quello che è il risultato, anche se è sofferto, però è un risultato positivo. E quindi dobbiamo raccogliere il massimo da questa partita, mi aspetto una grande prestazione di reazione soprattutto dei ragazzi. E quindi siamo pronti ad affrontare la Versa che nelle ultime quattro partite, poi se andiamo a vedere il suo curriculum, ha fatto tre vittorie e questa sconfitta in casa con il Fasano. Lavoro davvero intenso in questi tre giorni agli ordini dello staff tecnico guidato da Luigi Panarelli, che ha chiesto ai suoi un nuovo scatto in avanti per riconquistare vigore nelle prestazioni e trovare dopo quattro turni di assenza la vittoria. Vogliosa di riscattarsi dopo quello che magari è stato non tanto il risultato quanto la prestazione. E quindi mi aspetto veramente una bella gara e mi aspetto soprattutto una grande voglia di raggiungere il massimo risultato. A Pozzuoli è mancato, oltre al centrocapista Monaco, squalificato anche il trequartista Cerone, bloccato all'ultimo momento da un virus di influenzale. Un'assenza importante, ma lo staff medico ha lavorato per far sì che il numero 10 Biancazzurro possa essere in campo nel match contro la Versa. L'abbiamo gestito in questi giorni e poi con lo staff medico, sempre puntuale a rimetterlo in piedi, vediamo come arriveremo a quella che sarà la gara. Sono tutti a disposizione, Marino ha un qualche problemino, però per il resto tutti a disposizione per la partita di domani. Formazione campana bloccata nelle scorse settimane dal Covid-19 dopo un filotto di tre successi consecutivi, tra le vittorie anche quella di prestigio contro il Casarano, poi la sconfitta interna domenica scorsa contro il Fasano. La Versa, tranne questa partita, ha fatto quattro partite e tre vittorie, di cui una di queste tre vittorie ha vinto con il Casarano 2-0. E questo è un campionato che, lo ripetiamo più volte sia io che i miei colleghi, che tutto l'entourage che appartiene a questo campionato, è un campionato particolare, è un campionato che tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti. Il match avrà inizio alle 15 di domani, giovedì 1 aprile, dallo Stadio degli Olivi di Andria e sarà visibile integralmente live sulle pagine social della Fidelis, sia Facebook che YouTube, grazie all'importante produzione di Telesveva.